Noi siamo un negozio di cartoleria, quindi vendiamo prodotti per la scuola, libri scolastici, abbiamo anche giocattoli per tutte le fasce di età e ultimamente abbiamo aperto una zona party per compleanni, feste, matrimoni, lauree e quant'altro. La nostra è una fascia di età abbastanza ampia perché va comunque dalla prima infanzia fino a tutta la fascia scolastica, quindi fino alle superiori e comunque avendo anche articoli da regalo prendiamo una fascia molto ampia anche di adulti. Il giocattolo che va per la maggiore è Peppa Pig, quindi tutto quello che riguarda il mondo di Peppa Pig, dai peluche, dai puzzle, giochi di società, queste cose qui.